Salve a tutti da Mirko partiamo con i tutorial di SFI con questo primo dove indicheremo un'idea generale di cos'è SFI come network e del suo e-commerce tra ipeclick si perchè SFI è un network diviso su due siti abbiamo il back office SFI quindi questa parte che vi state vedendo adesso dove noi andremo a fare tutte le azioni quotidiane che vengono richieste e il nostro e-commerce dove troviamo il normale e-commerce tipo ebay dove troviamo gli articoli in vendita in più abbiamo la possibilità di sfruttare questo sito per delle altre centesimali che è una novità nel fatto di e-commerce dove si possono trovare molti articoli a prezzi molto vantaggiosi oltre a per esempio in questa sera ci sono due lotti da 35 affiliati per SFI oltre appunto alle aste centesimali abbiamo anche una sezione giochi dove ci sono diversi giochi per guadagnare dei punti che vengono accumulati su SFI queste sono tutte cose che vedremo in altri tutorial in infarinata generale su il mondo SFI ritorniamo al nostro back office SFI qui come ben detto abbiamo le azioni giornaliere che andiamo a fare tutti i giorni e sono evidenziate qui in rosso sono poche azioni da fare giornalmente andiamo a vedere delle pagine le andiamo a dare un ok per averle viste e andiamo a prendere dei punti punti che alla fine del mese vengono trasformati poi in soldi in commissioni commissioni che vediamo la certezza vengono pagate mensi in mente e ve lo posso garantire perché io sono iscritto dal 2012 ci lavoro abbastanza bene e tutti i mesi ricevo tramite Paypal la mia commissione la commissione mensile che ho accumulato il sito è molto affidabile ha 18 anni di esperienza e 31 anni in totale di lavoro quindi un qualcosa di già comprovato senza che abbia bisogno di aggiornamenti vari o che ha già superato praticamente tutte quelle fasi critiche delle start up è valutato dal sito BBB che è un ente che valuta i network americani con il grado A quindi un'ottima valutazione e lo è dall'anno 2000 quindi anche qui abbiamo un sinonimo di solidità l'e-commerce tra epiclic ritornando un po' anche facendo un po' di qua un po' di là l'e-commerce tra epiclic è collegato con 190 paesi al mondo quindi fa una transazione su questo portale abbiamo circa 100.000 prodotti inseriti ancora non sono un numero folle però sicuramente andrà crescendo il sito SFI quindi il nostro back office al momento su per giù conta 5 milioni di utenti alcuni lavorano altri no però sono iscritti quindi vedono un po' tutte le varie novità il sito costantemente si aggiorna quindi aggiorna la veste grafica che aggiorna molte cose per renderlo sempre più accattivante e cercare di togliere quel discorso noia che può capitare quando si lavora da diversi anni per un network ci offre la possibilità di guadagnare con più metodologie innanzitutto la sua matrice è una matrice unilevel su 12 livelli massimi quindi noi possiamo avere come diretti anche tutte le persone che vogliamo all'infinito andiamo a raccogliere commissioni dai nostri diretti e andiamo a prendere delle commissioni in punti che viene sviluppato dalla nostra rete a seconda della nostra qualifica se noi siamo poi le qualifiche le vedremo comunque in un secondo momento se noi siamo porto un esempio bronzo è una qualifica abbastanza semplice da raggiungere possiamo guadagnare anche dalla nostra struttura fino alla sesta linea quindi fino al sesto livello e andremo a prendere lo stesso numero di punti che hanno tutti gli affiliati tutti i membri che hanno raggiunto la qualifica di EA2 quindi praticamente che hanno confermato già il secondo mese lo stesso numero di punti noi facciamo un esempio noi siamo una qualifica bronzo abbiamo una persona in terzo livello che alla fine del mese ha accumulato 3000 punti ed è diventata altrettanto anche lei bronzo noi andremo a prendere il 100% dei suoi punti che vengono poi sommati nella sezione punteggi quindi scoreboard e poi lo vedremo tutte le varie sezioni nel prossimo tutorial alla fine del mese e alla fine del mese tutti questi punti vengono accumulati e vengono convertiti in soldi quindi la nostra strategia principale è quella appunto di lavorare molto sulla struttura e successivamente lavorare anche sullo store di Trepeclic aggiungendo dei nuovi rivenditori perché l'Italia è ancora un po' indietro su questo sito di e-commerce quindi abbiamo molto lavoro da fare possiamo farlo bene insieme soprattutto se lo facciamo in gruppo e per terminare questo primo tutorial vi voglio rammentare un attimino le pagine e il gruppo che abbiamo su Facebook il gruppo su Facebook si chiama SFI Italia Team eventualmente potete contattarmi direttamente e poi vi aggiungo in più abbiamo la pagina che si chiama OGG Group quindi organizzazione gruppo guadagno che ho inserito all'interno altri due sistemi low cost quindi abbiamo un TBM3 gratis e un 4 corners con una quota di iscrizione iniziale da una pizza e una birra eventualmente per chi volesse portare avanti entrambe le cose con me se no rimaniamo con SFI nel nostro gruppo SFI Italia Team per questo primo tutorial quindi un'infarinata molto molto generale e poi sicuramente se avete voglia di entrare un attimino a conoscere meglio il programma possiamo tranquillamente sentirci tramite Skype o tramite poi un contatto telefonico e per questo e per questo quindi io chiuderei qui sto cercando di fare dei video molto brevi per non portarvi troppa per non far cadere un attimino la vostra concentrazione vi saluto e ci sentiamo poi al prossimo tutorial grazie a tutti grazie grazie grazie